Allora, adesso anche io ringrazio entrambi i relatori, prosegui con il resto del pomeriggio. Allora, proseguiamo col pomeriggio e diciamo che continuiamo a sentire la voce autentica della dislessia e infatti adesso abbiamo delle testimonianze di studenti che stanno studiando all'università e che quindi lottano quotidianamente per farcela nonostante le difficoltà che incontrano. Quindi io chiamo adesso Vittoria Ayun e Filippo Gerli. Adesso non so come vi siate organizzati. Allora, prima parla Vittoria. Filippo bisogna sempre dare la precedenza alle signore e alle signorine. Scusate, ma io sono bassa. C'è un problema di altezza. Allora, buonasera a tutti. Io sono Vittoria, studentessa universitaria al secondo anno della facoltà di giurisprudenza Unifi, essendo di Firenze. E vi parlerò in breve della mia esperienza di studente con dislessia, che è un'esperienza colorita, diciamo così. Perché alla scuola elementari, io appunto sono del 94, quindi quando tu iniziavi, Filippo, io nascevo. Sono del 94 e quando ho iniziato le scuole elementari, ancora, nonostante fossero passati sei anni, c'era molta ignoranza. E si vedeva questa mia lentezza nel leggere, questa lettura che non ingranava. Mi avevo un'amichetta inseparabile con cui facevo i compiti. Lei andava velocissima, leggeva benissimo, faceva i compiti per tutte e due perché sennò non si riusciva a giocare. Ovviamente ci hanno beccate. E a quel punto, però, vedendo che io ero sempre indietro rispetto a lei, lei leggeva particolarmente bene e io, sempre lenta, sempre lenta, lei addirittura faceva questa cosa che per me era assurda, a ricreazione leggeva Geronimo Stilton, un Geronimo Stilton intero in due ricreazioni. Per me era assurdo, impossibile, ma tutt'ora, in verità, non so se ci riuscirei. E quindi, vedendo questa differenza, questo mio andare più lenta, mia mamma sorge qualche dubbio. Non so come mia madre fosse a conoscenza della dislessia, ma va dalla maestra, lei dice, guardi, secondo me mia figlia è dislessica. Risposta della mia maestra è stata, signora, lei è molto ansiosa, sua figlia non si impegna abbastanza, prima o poi recupererà se vuole, se no, mollerà, insomma, saranno cavoli suoi. E quindi mia mamma cosa ha fatto? Prendi, leggi, allenati, continua a leggere perché sono io ansiosa, sei te che non ti impegni abbastanza e vanno così le cose. E quindi io, a leggere, c'era un libro di un topino che aveva tante avventure, a rileggere queste avventure del libro del topino, che mi ricordo ancora la copertina. Arrivata alle medie, ovviamente ancora più difficoltà, perché comunque alle medie le cose vanno ad essere più difficili, e soprattutto nella lingua inglese. Avevo questa docente che aveva questa cosa, secondo me, tremendamente sadica, soprattutto essendo io dislessica, discalculica e disortografica. Non si sapeva, questo è vero, ma è sadica comunque, secondo me. E lei faceva nove domande, sei orali, e lì più o meno qualcosa riesci a inventare, insomma, soprattutto se chiacchieri. Dove se era giusto era più, se era sbagliata era meno, e se invece era così e così, dove così e così è un po' opinabile, no? Era fontino, cioè mezzo voto. E poi, la cosa tragica, erano i tre vocaboli scritti alla lavagna. Cioè, lei ti diceva, un vocabolo, te andavi alla lavagna, lo dovevi scrivere davanti a tutta la classe. Quello era tremendo, perché ovviamente, oltre all'ansia che chiunque avrebbe, no? Di scrivere, insomma, una cosa davanti a tutti, c'era l'ansia di sapere delle mie difficoltà, il sapere che io, comunque, leggere e scrivere, insomma, in inglese poi è ancora peggio, e il dover imparare la parola come si scriveva, insomma, è una gran fantasia. E tuttora, io vi racconto sempre, quando vado ai convegni, no? Che, per far capire che proprio in inglese so dura, sono di coccio, è che la parola che io vedo più spesso al giorno è lo, no? Legge. La vedo tutti i giorni in italiano e in inglese. Io tutte le volte, quando devo scrivere l'O, io so che inizia con la L e che ci sono di mezzo, la W e la O, ma non lo so all'ordine. E ogni volta viene scritta, ah, tra l'altro, appunto, scusate, viene scritta in maniera diversa. Tant'è che il mio iPad ci ha rinunciato a segnarmelo come errore, cioè, mi diceva, vabbè, fai come vuoi, tanto non mi ascolti. Quindi, niente, a inglese ero sempre sul filo del rasoio, prendevo la sufficienza. Il mio problema, secondo me, ma anche quello che mi hanno detto poi dopo, è che ero sì un po' asina, ma non abbastanza, perché comunque al sufficiente buono ci arrivavo. Quindi alla fine delle medie, mi è stato detto anche a me, che dovevo andare assolutamente in un istituto, perché a fare un liceo non sarei stata in grado. questo penso più o meno a tutti noi ce l'abbiano detto. E io, effettivamente, l'alberghiero invece l'avevo valutato, perché con le padelle me la cavo bene, però ero più propensa anche per un classico scientifico. Poi andando all'open day del classico, mi veni spaventata dal greco, e andando all'open day dello scientifico, mi rintortarono facendo vedere i bellissimi laboratori mai usati in cinque anni, e poi c'era uno molto bello a fare l'open day, e quindi anche quello ha giocato a mio favore, e quindi ho deciso di fare lo scientifico, non senza difficoltà. E alla fine del primo anno, finalmente la docente di inglese, dopo avermi messo due più in inglese, a un dettato in inglese, che con senno di poi dico, vabbè è andata anche bene, vuol dire che qualche parola l'ho presa, dopo questo benedetto due più, le viene il dubbio che io sia dislessica. Quindi sono passati diversi anni, e nell'estate tra la prima e la seconda liceo, vengo diagnosticata con dislessia, discalcolia e disortografia. Con un piano didattico personalizzato, io miglioro tantissimo. Effettivamente i miei voti li evitano, anche se ho l'ansia, attacchi di panico inizialmente, perché comunque il fattore ansia addirittura è esplicitato nel mio certificato, perché è altissimo, anche se potrebbe non sembrarvi oggi. E soprattutto i miei compagni non accettano i miei strumenti compensativi. Non gli viene spiegato bene dai miei docenti, e loro non li accettano, non accettano il fatto che io vada meglio di loro. Fino a che in terza superiore la professoressa di biologia ha una buona idea e dice facciamo una ricerca, ognuno sceglie un tema. Ovviamente il mio tema qual è stato? Dislessia. E quindi sono io che spiego ai miei compagni cosa sono i DSS. Pensando di essere supportata dalla mia professoressa, purtroppo non è andata così, perché io poi ho saputo dalle mie spie, delle amiche, che ci sono state battutine, molti non hanno ascoltato, e l'unica cosa che ha colpito tanto i miei compagni era la testimonianza che io avevo messo nelle slide di un ragazzo che volevano sapere se era Filippo, io ovviamente ho negato, ovviamente era Filippo. Sempre in quell'anno lì, poiché ero esasperata da questa cosa, c'erano i cori, nella mia città c'è una malattia, la dislessia, la dislessia, non ne potevo più, mi sono rivolta all'AID di Firenze e mi hanno detto trova una persona con cui spalleggiarti, perché così non si può andare avanti. c'era lui nella stessa scuola, lui mi rinfaccia sempre i miei metodi un po' a marescialla, cioè che non giro molto intorno alle cose, vado dritta al punto, quindi sono entrata in classe sua, gli ho detto sei Filippo? Sì, quello dislessico? Sì, allora va bene, allora possiamo lavorare insieme, se no me ne frega niente. Ci siamo messi a collaborare insieme e lì veramente ho capito quanto fosse importante lo scambio e mi sono fortificata tanto. soprattutto ho avuto un momento in cui ho veramente capito che erano cambiate le cose quando abbiamo ci siamo ritrovati a preparare il primissimo convegno nel 2012 perché premessa facciamo annualmente dei convegni anche noi a Firenze abbiamo iniziato nel 2012 e ora nel 2016 sarà il quarto. Quindi a preparare questo primissimo convegno in cui l'ansia appunto era alle stelle giorni di ritiro manco per l'esame di penale faccio ritiri del genere a un certo punto pausa dal convegno studiamo dopo un po' da buona dislessica mi annoio e inizio a ciacciare termine fiorentino cioè a guardare nel suo diario e a farmi i fatti suoi a un certo punto trovo questa scritta sul suo diario dove in teoria lui quel giorno mi avrebbe dovuto sostituire alla plenaria della consulta quindi io leggo questa scritta leggo plenario secondo me e inizio a prenderlo in giro a fargli oh dislessico plenario si è plenario plenario ignorante no? e prenderlo in giro al che lui inizia a sudare freddo e mi fa veramente era planetario dovevo andare al planetario morale non c'era scritto plenario effettivamente ma non c'era nemmeno scritto planetario ma c'era scritto una cosa tipo plerio quindi lui aveva scritto male e io avevo letto male ci siamo guardati c'è stato questo momento di terribile imbarazzo e di sudore freddo e poi abbiamo realizzato che invece in quel momento lì noi ci eravamo scambiati tantissimo perché avevamo veramente realizzato un bel un bel punto di confronto appunto poi da lì abbiamo creato il primo convegno dove erano presenti quelli che poi sono diventati i nostri editori e abbiamo scritto un libro che è un romanzo di due ragazzi con DSA delle avventure non è autobiografico sono delle avventure insomma appunto proprio un romanzo e poi ora è uscito il secondo il seguito inutile dire che poter scrivere un libro per quando ci è stato chiesto di scrivere un libro per noi ragazzi con DSA con tante tante volte che ci era stato detto dei temi tanta fantasia ma non ci sono tanti errori di ortografia potresti avere ottimo ma non impari a mettere le H questi ma enormi cosmici quindi è stata una soddisfazione immensa abbiamo fondato un'associazione di ragazzi a Firenze si chiama Pilla di Parole tra l'altro vi invito a guardare i nostri video che sono insomma sul canale YouTube sono video un po' semplici simpatici ma sono cartoni più che video che parlano di dislessia e ora anche un po' di tema di maturità perché insomma è anche corretto dare spazi maturandi e poi niente ho finito le superiori diplomandomi con un voto bassissimo 68 perché insomma non è stato rispettato il piano didattico personalizzato in sede di esame ed è stato per me un dolore immenso però nonostante ci abbia messo tantissimo prima di prendere coraggio a dare il primo esame a giurisprudenza sono contenta di poter dire che sono in pari al secondo anno di giurisprudenza cosa rara per tutti di essere superiore alla media che è stata citata prima perché io ho la media del circa del 26 e non mi lamento infatti sono veramente contenta ora spero di non abbassarla proprio ora però insomma via la linea di massima sono veramente contenta del risultato finora spero di essere nella percentuale in cui dei ragazzi che si laureano e voglio concludere con un successo che mi è arrivato proprio ieri sera mentre ero a tavola un messaggio di un ragazzo dislessico laureato in giurisprudenza che è passato alla prima all'esame di stato di avvocatura quindi questo è un successo enorme e credo sia doveroso grazie